Eccoci, buonasera, ci sono tante notizie nel telegiornale, si parla ancora del caro Bollette perché proprio questa sera il Presidente di Arera, l'autorità che controlla, verifica anche i costi delle materie energetiche, ha annunciato che i numeri sono chiari. In questo trimestre una famiglia tipo vede aumentare del 55% la bolletta della luce, del 42% quella del gas nonostante gli interventi cospicui che sono già stati messi in atto dal Governo. Ed è in continuità con questa notizia che arriva quella del Presidente del Consiglio che ha annunciato a Genova che il Governo sta approntando un intervento molto pesante, molto impegnativo su questa materia. Vedremo cosa sarà, di cosa si tratterà e quanto influirà positivamente dal punto di vista dei consumatori su questa dinamica dei prezzi che sembra quasi incontrollabile. Ma è la grande materia quella energetica e da questo punto di vista non si può non guardare al futuro con le notizie che arrivano dalla Gran Bretagna dove nell'Oxfordshire è stato messo in atto un esperimento che ha portato a dimezzare i tempi della fusione nucleare. È un consorzio europeo di scienziati che è riuscito in questa applicazione che permette di vedere una prospettiva non lontanissima in cui la fusione nucleare pulita e sicura ci permetterà evidentemente di avere una certezza energetica per tutto il pianeta. Senza le paure, gli assilli, la parola nucleare si riporta sempre dietro. Ma vedremo anche però che si sta per uscire. Lo sappiamo, lo si è detto come un mantra, si esce dalla pandemia, dal tunnel, questo tunnel che viene evocato per tutti i lunghi periodi edifici. La verità è che Londra il 21 di questo mese dice addio a tutte le restrizioni e anche Parigi è vicinissima alla messa fuoricampo del Green Pass, non si utilizzerà più. E in Italia? In Italia è probabile che si sia tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima alle prese con delle scelte ulteriori, oltre a quelle minimali, da dopodomani come si sa niente più obbligo di mascherina all'aperto. La curve scende ma domani inevitabilmente raggiungeremo la quota di 150.000 vittime dall'inizio della pandemia. Vedremo però che ci sono molti fatti ancora. Innanzitutto la Ministra dell'Interno Lamorgese in Parlamento ha parlato dei tanti incidenti che hanno costellato le manifestazioni studentesche più recenti, quelle originate dalla protesta per la morte di quel giovane, il 18enne, Lorenzo, in Friuli. Ci sono state cariche e violenze da parte delle forze dell'ordine con Manganelli e non soltanto. Ebbene in Parlamento si è avvertita la Camera evidentemente la protesta della gran parte delle forze politiche, anche in dissonanza con le parole rassicuranti della Ministra dell'Interno. Ma vedremo anche un'altra vicenda, quella dell'uccisione brutale del carabiniere Cercello a Roma, ricorderete una vicenda di due Stati fa. Ebbene in prossimità del processo d'appello e con un processo collaterale in apertura arrivano delle bruttissime chat che sono state rinvenute nei rapporti tra i militi romani nel momento dell'arresto dei due ragazzi americani. Su questo c'è discussione e c'è polemica, ne parleremo. E parleremo anche della richiesta di rinvio a giudizio per Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e anche però Lotti e altri componenti di quello che veniva definito il cerchio magico di Firenze nella vicenda della Fondazione Open, il finanziamento alla Fondazione Leopolda che secondo i magistrati Quiretti Fiorentini era in realtà un finanziamento al gruppo politico di Renzi. È una richiesta di rinvio a giudizio alla quale l'ex premier reagisce annunciando una denuncia nei confronti dei tre magistrati che firmano la richiesta di rinvio a giudizio, ciascuno per dei problemi che ha avuto, delle questioni. Il titolare dell'azione penale Creazzo che ha stato, come si sa, messo sotto indagine per molestie nei confronti di una collega, un altro DPM, Nastasi, coinvolto nelle vicende sulla mancata chiarezza sul supposto suicidio di David Rossi a Siena e via dicendo. Insomma ci sono armi dal punto di vista di Renzi per una denuncia. Vedremo che cosa succederà e poi alla fine un'aula di giustizia dovrà comunque decidere su tutto, più aule di giustizia in questo caso. E non soltanto queste sono le notizie, c'è anche il fine vita di cui si discute in Parlamento e questa mattina non ha mancato di far sentire la sua voce anche Papa Francesco. L'uomo ha diritto a preservare la vita ma non a originare la propria morte o quella altrui. E su questo si discuterà molto. 30 secondi, Tittorino. Nonostante gli interventi già attuati dal governo, l'autorità per la regolamentazione dell'energia registra un aumento altissimo dei costi nel primo trimestre di quest'anno. 55% per la bolletta della luce, 42% per il gas, costi del mercato tutelato che graveranno sulla famiglia media e a Genova nel primo intervento pubblico. Dopo la vicenda quirinale, Draghi annuncia nei prossimi giorni un intervento significativo contro il caro bollette. Il decreto sarà discusso in Consiglio dei Ministri. E in tema del futuro energetico, dalla Gran Bretagna l'annuncio straordinario di una svolta nella ricerca sulla fusione nucleare per la creazione di energia pulita e che in futuro potrà soppiantare le fonti fossili. Il reattore sperimentale europeo JET ha generato una fusione a altissime temperature di pochi grammi di idrogeno, producendo 11 MW in pochi secondi. Un risultato simile al calore generato da una stella e che apre ovviamente nuovi scenari nella produzione di energia sicura e pulita. L'Europa guarda la fine della pandemia. Se in Gran Bretagna va via ogni restrizione, dal 21 febbraio in Francia si pensa di togliere l'obbligo del Green Pass dalla fine di marzo. In Italia intanto prosegue la discesa della curva epidemica. Ci sono 80.367 nuovi casi di Covid nell'ultima 24 ore, ma resta alto il numero dei decessi. 384. In calo ricoveri e terapia intensiva e sul futuro si mostra ottimista il Ministro della Salute. Speranza, andiamo verso una nuova fase. La Ministra dell'Interno Lamorgese ha riferito in Parlamento con un'informativa sulle manifestazioni degli studenti del 28 gennaio, scese in piazza per la morte di Lorenzo, lo studente che ha perso la vita in Friuli nell'ultimo giorno di stage in una fabbrica. Furono molte le polemiche per la gestione delle forze dell'ordine e gli scontri violenti con i dimostranti. Le proteste giovanile sono un segno di vitalità della nostra democrazia, ma ci sono delle regole da cui non si può prescindere, ha detto Lamorgese, che ha ammesso però tra i malumori di molta parte dell'emiciclo che qualcosa non ha funzionato. La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di Matteo Renzi e di Maria Elena Boschi, di Luca Lotti, di Carrai e di Bianchi e di altre sei persone e quattro società. L'inchiesta è quella sulle presunte irregolarità per i finanziamenti alla Fondazione Open, nata per sostenere le iniziative politiche dell'attuale leader di Italia Viva. Udienza preliminare il 4 aprile, finalmente inizia il processo, ha commentato Renzi, che ha annunciato di aver presentato una denuncia penale verso i tre magistrati che lo indagano e che hanno avuto vicende loro, Creazzo, Turco, Nastasi. Iniziato, subito rinviato, l'esame in aula alla Camera della legge sulla morte volontaria medicalmente assistita. Si attende la pronuncia della consulta sull'ammissione del referendum, su cui sono state raccolte oltre un milione e duecentomila firme. Dura la reazione che è arrivata dal Vaticano. Non ci sono vite da scartare, né un diritto alla morte che va accettata e non somministrata. Si schiera contro Papa Francesco. Molti argomenti forti. Partiamo da una questione che è brutalmente messa davanti ai nostri occhi dal capo dell'Agenzia sulla regolamentazione del mercato energetico, che ha spiattellato delle cifre, delle percentuali molto chiare. Nonostante i recenti interventi del Governo, è praticamente oltre il 50% di aumento per una famiglia tipo della bolletta della luce, oltre il 41% per quanto riguarda quella del gas. E che fare? Il Governo non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per i prezzi dell'energia elettrica. E volevo utilizzare questa circostanza per dire che il Governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni. La conferma del nuovo provvedimento contro il caro Bolletti arriva direttamente dal Premier in visita oggi a Genova. Nel primo intervento pubblico dopo la partita del Quirinale, Draghi prova a dare il segnale di un Governo intenzionato a ripartire con slancio, nonostante i contraccolpi ancora in corso tra i partiti della maggioranza. Rilanciare a partire dal tema dell'energia, i cui costi in aumento stanno frenando la ripresa, come molti indicatori stanno a dimostrare. Gli ultimi dati sono d'allarme rosso. Nonostante le risorse straordinarie già stanziate dal Governo, nel primo trimestre 2022 si è registrato un aumento dei costi per la famiglia Tipo pari a più 55% per la bolletta dell'elettricità e a più 41,8% per quella del gas rispetto al trimestre precedente. Previsti ulteriori 5,7 miliardi per famiglie e imprese, fondi da individuare senza un nuovo scostamento di bilancio, come invece molti partiti chiedono. Si parla di revisione del mercato elettrico a livello europeo, come spiega il Ministro dei Rapporti con il Parlamento di Inca, la Camera per il Question Time, di accelerazione attraverso processi di semplificazione dell'installazione di fonti rinnovabili di energia, di misure per ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas naturale. La prossima settimana il Consiglio dei Ministri varierà un decreto che oltre al caro bolletta interverrà anche sulla cessione del credito per il super bonus edilizio, il cui limite ad un solo passaggio sta rallentando l'utilizzo della misura. Nell'orizzonte di Draghi c'è soprattutto il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con i relativi miliardi dall'Europa, il motivo principale della sua presenza e per qualcuno in modo strumentale della sua permanenza a Palazzo Chigi. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza appartiene a tutti gli italiani. Dobbiamo portarlo avanti con unità, con fiducia, con determinazione. Lo scorso anno abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi previsti. Lo stesso accadrà quest'anno. È una questione di serietà verso i cittadini e verso i nostri partner europei. Collegata al PNRR, la riforma del CSM, il nodo politico più delicato, che Draghi ha intenzione di sciogliere in tempi brevissimi, sarà venerdì in Consiglio dei Ministri. Ma resta la questione energetica. Si può sperare di far tutto bene, ma come ha detto il Presidente di Confindustria, Bonomi, quella dei rincari energetici è la vera mina per la ripresa del Paese. È una questione internazionale, ma come sappiamo noi siamo un Paese che soprattutto è costretto a importare energia, a differenza, che so, della Francia, che ha ancora il sistema delle centrali nucleari. E si sa che si guarda al futuro, alla transizione verde. Ma che cosa si può fare? Allarga il cuore alla speranza la notizia che arriva da Oltremanica, dalla Gran Bretagna, della riuscita di un esperimento importante europeo, su cui si sono consorziati gli scienziati di tutto il continente e che ci fa vedere la possibilità della fusione nucleare come elemento appunto per rischiarare il nostro futuro. Che il tempo fosse relativo è cosa nota, ma quanto è accaduto all'interno di questo reattore sperimentale europeo, che si chiama JET e che si trova in Inghilterra, ci ha proiettato in soli 5 secondi in un futuro che pensavamo ancora, molto lontano. Per dirlo in modo semplice, da oggi ci siamo avvicinati al giorno in cui saremo in grado di produrre energia pulita attraverso la fusione nucleare, ovvero attraverso quel procedimento che normalmente avviene nel cuore delle stelle. Gli scienziati europei lavorano a questo progetto da decenni, ma questa volta sono in riusciti a produrre all'interno del reattore in soli 5 secondi un'energia pari a 59 megajoule a intervalli di 5 secondi equivalenti a 11 megawatt, praticamente il doppio di quella ottenuta nel 1997 dalla stessa macchina. E appunto attraverso il delicatissimo procedimento della fusione, un procedimento che sulla carta è elementare ma è molto complicato da realizzare. Si surriscaldano pochi grammi di idrogeno a temperature estreme, 10 volte più elevate che nel sole, gli elettroni perdono i legami con il nucleo e così nel plasma ottenuto si riescono a fondere insieme i nuclei degli ioni ottenuti, liberando come conseguenza un'enorme quantità di energia. Un'energia ecosostenibile perché non produce scorie, sicura perché per sua natura non può innescare processi incontrollati e illimitata, visto che la materia prima usata è irreperibile ovunque sulla Terra, non solo, e anche molto efficiente, dal momento che a parità di quantità la fusione genera circa 4 milioni di volte più energie rispetto a quella prodotta bruciando carbone, petrolio o gas. Ora, la vera domanda è capire quando tutto ciò si potrà realmente applicare nella realtà, ovvero quando questo procedimento potrà servire a produrre energia per le nostre città. Gli scienziati non si sbilanciano, pur festeggiando questi dati come il più grande risultato scientifico degli ultimi 25 anni, ammettono che ci vorrà tempo prima di vederne le conseguenze pratiche, ma quanto? Il prossimo passo sarà di usare la tecnologia di JET su ITER, che è il progetto in costruzione più importante sulla fusione nucleare, frutto di una collaborazione tra 35 paesi. La sua partenza dovrebbe essere nel 2025, anche se abbiamo visto che ormai il tempo è relativo, come diceva qualcuno, ma questa è un'altra storia. C'è stata pochi minuti fa una scossa di terremoto tra la provincia di Reggio Emilia e quella di Modena, in Emilia Romagna, ovviamente non si hanno ancora ulteriori notizie, la scossa è stata chiaramente avvertita, se sapremo qualcosa di più ovviamente ve lo diremo nel corso del telegiornale. E' una giornata, quella di oggi, che mette la gran parte d'Europa al cospetto, come diciamo da giorni in Italia, della prospettiva di uscita dalle misure restrittive più pesanti per contrastare la pandemia di Covid. Boris Johnson in Gran Bretagna ha annunciato che il 21 febbraio va via ogni restrizione, si torna alla vita libera, come si può dire. E anche la Francia pensa entro la fine del mese, l'inizio del prossimo, a togliere il sistema del Green Pass. In Italia le voci parlano di decisioni che possono essere prese a cavallo tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, ma si continua a navigare a vista perché i dati sono rassicuranti, ma non tutti. La curva dei contagi continua a scendere, aprendo giorno dopo giorno allo scenario di una graduale e attesa normalità. Sono 81.367 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte di oltre 731.000 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale all'11,1%. Tante ancora le vittime, 384, ma questo è sempre l'ultimo parametro a scendere e certificare la fine anche di quest'ultima ondata pandemica. Sul fronte ospedaliero rimangono nelle terapie intensive 1.350 pazienti, 26 in meno rispetto a ieri, mentre i reparti ordinari Covid si svuotano di 405 unità. Numeri incoraggianti, frutto di una campagna vaccinale fondamentale per uscire dall'emergenza, siamo ormai in una fase endemica di convivenza con il virus. Oggi l'AIFA ha pubblicato il rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid dal 27 dicembre 2020 al 26 dicembre 2021 per i quattro vaccini in uso. I dati raccolti e analizzati hanno evidenziato la loro sicurezza e sono rari i casi di eventi avversi, ha spiegato il direttore generale dell'Agenzia Nicola Magrini. Su 108 milioni di dosi, quasi 120.000 reazioni avverse, circa un caso su 1.000, l'83% non gravi. Confermata la validità e la sicurezza in gravidanza e allattamento, nessun effetto negativo sulla fertilità. C'è anche un dato che riguarda l'atteggiamento emotivo. Da 12 studi clinici internazionali su oltre 45.000 pazienti, è emerso che nel gruppo placebo il 64% ha avuto effetti negativi, frutto di una reazione emotiva alla vaccinazione in realtà mai somministrata. È il cosiddetto effetto nocebo, una suggestione, ha spiegato Guido Rasi, consulente del Comitato Straordinario per l'Emergenza Covid. Rassicura ancora una volta, anche se con la dovuta prudenza, il ministro Speranza e dalla conferenza congiunta dei ministri europei della salute e degli esteri a Lione, dice oltre il 90% di persone hanno avuto la prima dose. Con questi numeri possiamo permetterci di affrontare in modo diverso una stagione nuova del Covid. Ecco allora che da venerdì, tranne che in Campania, cade l'obbligo delle mascherine all'aperto. Bisognerà metterle in caso di affollamenti e sempre nei luoghi chiusi, almeno fino al 31 marzo. E a volta nel mistero la notizia, che sarebbe ovviamente luttuosa, della morte di una figura importante nel mondo della medicina, di cui tanto si è parlato anche in questi ultimi mesi. Si tratta di Luc Montagnier, premio Nobel per la scoperta, ovviamente, come sappiamo, le scoperte sull'HIV e anche scopritore di tante altre cose. Di lui si è parlato tanto per le sue prese di posizione decisamente ostili rispetto a quella che è la narrazione principale riguardo al Covid e all'uso e al ruolo dei vaccini. Secondo alcune fonti del mondo Novax, soprattutto Luc Montagnier sarebbe morto tra ieri sera e oggi. Un giornale francese, François, ha dato effettivamente la notizia della sua scomparsa, ma nessun altro organo di informazione francese ha confermato la notizia. Anzi, nessuno ne parla in nessun modo, il che è una situazione abbastanza irrituale. Mi permetto di far notare che però non è arrivata anche nessuna smentita. Abbiamo anche contattato coloro che hanno propiziato la recente visita in Italia di Montagnier alla manifestazione di Milano contro le vaccinazioni. Quella che sapete era stata organizzata dal senatore Paragone. Abbiamo sentito lo stesso Paragone che ha detto di non avere nessuna conferma, ma in effetti negli ultimi giorni di aver avuto difficoltà a contattare, avere un feedback da Parigi da parte delle persone vicine a Montagnier. L'emittente BioBlu, a sua volta vicino al mondo che è contrario al sistema delle vaccinazioni, alla gestione del Covid, ha annunciato per questa sera una serie di trasmissioni in memoria di Montagnier. Questo è tutto. Non abbiamo altre notizie al riguardo. Ne abbiamo invece sulla scossa di terremoto tra Reggio Emilia e Modena. La prima valutazione dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia e Geofisica è che si tratta di una scossa tra il 3,9 e il 4,4. Vi diremo di più nel corso del giornale. Ora andiamo a vedere cosa ha detto la Ministra dell'Interno, Lamorgese, riguardo agli incidenti e alle manifestazioni studentesche delle scorse settimane. La democrazia ha le sue regole, dalle quali non si può prescindere mai, soprattutto quando si tratta di regole poste a presidio del cruciale bilanciamento dei valori costituzionali, quale il diritto di manifestare liberamente e la tutela della salute pubblica. Dopo le forti polemiche sulla gestione dell'ordine pubblico, la Ministra Luciana Lamorgese, con una informativa in Parlamento, riferisce sulle manifestazioni di giovani e studenti del 28 gennaio scorso. Proteste organizzate in seguito alla morte di Lorenzo Parelli, lo studente che ha perso la vita in fabbrica in provincia di Udine nell'ultimo giorno di apprendistato previsto dal programma di alternanza scuola-lavoro. Una morte inaccettabile, ha ribadito la titolare del Viminale, che è tornata sugli scontri e ha definito incresciosi i fatti avvenuti in piazza. A Torino e poi a Milano, Roma e Napoli, su cui le indagini sono ancora in corso, avviate dalla magistratura inquirente. Chi è chiamato a esercitare responsabilità istituzionali e operative deve riflettere a fondo quando i fatti causano danni a persone estranee al gruppo dei facinorosi, ammette Lamorgese. Ma accanto al parziale riconoscimento che da parte delle forze dell'ordine sull'uso della forza qualcosa non ha funzionato, la ministra ribadisce che a Torino, dietro la protesta, c'era la regia dei militanti del centro sociale Ascatasuna, mentre a Roma, nel corteo organizzato dai collettivi studenteschi, una parte dei manifestanti risultano appartenenti all'area anarchica e da parte loro c'era intenzione di arrivare allo scontro fisico. Da più parti i parlamentari rimarcano un atteggiamento diverso dalle forze dell'ordine contro i giovani rispetto a quello adottato in occasione delle proteste sfociate il 9 ottobre scorso nell'assalto alla sede della CGL. Lamorgese dimostra un'incapacità di prevenire le infiltrazioni in un corteo di studenti animati da una giusta causa. Dovrebbe dimettersi, attacca in Senato per Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè. Forti critiche arrivano anche da Franco Mirabelli del PD. La presenza di gruppi, di faccinorosi, di gruppi organizzati non può giustificare quello che è successo e che ha coinvolto giovani inermi. Insisto, lo Stato deve garantire la possibilità di manifestare insicurezza. A questa tragedia di gravità inaudita si aggiungono molte altre tensioni a partire da due anni di pandemia che hanno penalizzato soprattutto e particolarmente i giovani, ha sottolineato la capogruppo di Leo al Senato, Loredana De Petris. E andiamo a vedere un'altra vicenda che riguarda ancora le forze dell'ordine perché ci fu una vittima e fu una storia terribile, quella di, lo ricorderete, del carabiniere Cercello Rega, ucciso da uno dei due giovani americani che stava affrontando nella centrale piazza Cavour di Roma in una notte d'estate. Fa impressione leggere le frasi ripetibili scambiate su una chat dai carabinieri il giorno stesso dell'arresto di Gabriel Natale Yort e Finnegan Lee Helder, i due ventenni americani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cercello Rega, avvenuto a Roma nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019. Il contenuto dei messaggi è stato consegnato dai legali dei due ragazzi condannati in primo grado all'ergastolo nell'ambito di un altro processo che vede sotto accusa Fabio Manganaro, il militare autore del bendaggio di Natale Yort, appena fermato nella caserma di Via Inselci, dove assede il nucleo investigativo dei carabinieri. Un atto che ha costato a Manganaro l'accusa di misura di rigore non prevista dalla legge. Insomma, un abuso fuori dal diritto. Tante le frasi minacciose inviate il giorno del fermo dei due americani, nell'estate di due anni e mezzo fa. Li abbiamo presi, stiamo venendo in reparto, scrive un carabiniere. Ed altri commentano, ammazzateli di botte. E un altro militare aggiunge, non mi venite a dire arrestiamoli e basta, devono prendere le mazzate, bisogna chiuderli dentro una stanza ed ammazzarli. Squagliateli nell'acido, fategli fare la fine di cucchi. Immediata la ferma condanna dell'arma che in un comunicato stigmatizza quelle parole dai toni offensivi ed esecrabili. Non appena saranno resi noti i nominativi dei militari coinvolti, si legge nella nota, l'arma avvierà con immediatezza i conseguenti procedimenti disciplinari per l'adozione di provvedimenti di assoluto rigore. Il vicebrigadiere Mario Cercello Rega venne accoltellato a morte il 25 luglio 2019, nei pressi dell'albergo dove i due, appena arrivati dagli Stati Uniti, soggiornavano e dove poi saranno arrestati il giorno dopo. I giovani avevano cercato di acquistare droga, ma lo spacciatore li avrebbe truffati. L'uomo, per riavere lo zaino che gli americani gli avevano sottratto, ha poi chiamato i carabinieri. All'arrivo dei militari, l'aggressione mortale a Cercello Rega, da parte di Gjort e di Finnegan Lee. Andiamo a vedere la notizia della richiesta di rinvio a giudizio per l'ex Premier Matteo Renzi, per l'ex Ministro Mariaena Boschi e l'altro ex Ministro Luca Lotti, di altre otto persone nell'indagine che riguarda la cosiddetta Fondazione Open, anzi la Fondazione Open, che finanziava la Leopolda di Renzi e che secondo i magistrati in realtà era un veicolo per finanziare la politica renziana. La richiesta verrà discussa ovviamente dal giudice per le indagini preliminari, ma intanto è durissima la reazione del più diretto interessato. La nostra guerra tra Matteo Renzi e la Procura di Firenze arriva a una tappa chiave, la richiesta di rinvio a giudizio per 11 persone e 4 società. Vanno verso il processo l'ex Presidente del Consiglio, i principali componenti del Giglio Magico e gli imprenditori, che per 5 anni hanno finanziato Open, la fondazione nata per supportare le iniziative politiche di Renzi. L'udienza davanti al gruppo è tra due mesi, 4 aprile, agendo come un'articolazione di partito, tra il 2014 e il 2018 Open avrebbe ricevuto oltre 3 milioni e mezzo di euro in violazione delle norme sul finanziamento ai partiti. E appunto il lecito finanziamento ai partiti è l'accusa rivolta all'ex segretario del PD, ora leader di Italia Viva, considerato dai pubblici ministeri il direttore di fatto della fondazione. Stessa ipotesi di reato per la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, per il deputato PD Luca Lotti, per il presidente della fondazione Open, Alberto Bianchi, per gli imprenditori Marco Carrai e Patrizio Donnini. All'Otti, ex membro del CDA della fondazione e componente del governo, tra 2014 e 2017, vengono contestati anche due episodi di corruzione per l'esercizio della funzione. In quegli anni si sarebbe dato da fare per disposizioni normative favorevoli alle società che versavano soldi a Open, la Toto Costruzioni e la British American Tobacco. Come prevedibile, Renzi reagisce e come? Finalmente a processo in aula e non sui media, commenta, e subito dopo aver ricevuto il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, fa sapere di aver firmato una formale denuncia penale nei confronti dei pubblici ministeri che lo vogliono a processo, Giuseppe Creazzo, Luca Turco e Antonino Anastasi. La denuncia sarà depositata a Genova, sede competente per i reati relativi ai magistrati fiorentini. Renzi ha anche chiesto di essere ascoltato dai PM genovesi, anticipando che porterà con sé materiale utile a corroborare l'atto d'accusa. Tramite il suo ufficio stampa, l'ex premier ricorda che il procuratore Creazzo è stato sanzionato dal CSM per molestie sessuali verso una collega. L'aggiunto turco chiese per i genitori di Renzi arresti che furono poi annullati dal Tribunale della Libertà e il sostituto Anastasi è accusato da un ufficiale dei Carabinieri di aver inquinato a Siena la scena del crimine pochi minuti dopo la morte del manager MPS, David Rossi. Io non ho commesso reati, conclude Renzi. Spero che i magistrati fiorentini possano in coscienza dire lo stesso. Sarà una battaglia legale e mediatica, è evidente, mentre invece ci sono magistrati che hanno arrestato altri magistrati. Infatti c'è stato un caso di presunta corruzione nel Palazzo di Giustizia di Salerno. Cinque arresti domiciliari disposti dalla Procura di Napoli. Tra loro un ex PM di Salerno, un ex generale della Guardia di Finanza, un avvocato e due imprenditori. A Roberto Penna, il magistrato, all'epoca dei fatti contestati sostituto procuratore a Salerno e oggi giudice a Roma e agli altri accusati, sono contestati i reati di corruzione in atti giudiziari nell'esercizio delle funzioni e di atti contrari ai doveri d'ufficio. Il magistrato avrebbe riferito ai due imprenditori edili notizie riservate su inchieste in corso riguardanti abusi ed ilizi, chiedendo in cambio favori personali. E ora la ultima questione del telegiornale, ma forse la più importante. A una settimana dall'atteso pronunciamento della consulta sul referendum promosso dai radicali, si torna a parlare alla Camera di eutanasia legale e suicidio assistito. Termini dall'effetto rivelatosi fin qui sempre urticante per un Parlamento che una legge in materia la promette da anni e che sul tavolo al momento ha una proposta di legge sfornata dalla Commissione Giustizia e Affari Sociali, spinta da PD e 5 Stelle, gravata di circa 230 emendamenti per lo più provenienti dal centro-destra, per lo più dalla Liga. Testo che recepisce in sostanza le condizioni indicate dalla Corte Costituzionale nella sentenza del novembre 19, quella con cui di fatto, il caso lo si ricorderà, era quello del DJ Fabiano Antoniani, fu depenalizzato l'aiuto al suicidio, prestato nell'occasione da Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscione. Una toccata e fuga, quella nell'aula di oggi, con la discussione già rinviata la prossima settimana dopo la sentenza della consulta, cioè con una richiesta di referendum sul tappeto forte del 1.200.000 firme raccolte in breve tempo per l'abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice Penale, che oggi sanziona come reato l'omicidio del consenziente, ovvero l'uccisione di chi ne fa richiesta, un'adesione popolare capace di impensierire o che partiti che più di tutti si sono finora battuti contro Lega e Fratelli d'Italia, appunto, ma anche Coraggio Italia. Loro parlano di legge eutanasica e di 15 giorni utili a capire se ci possono essere le condizioni per migliorare il testo, oltre naturalmente alle gerarchie vaticane, intervenute anche loro proprio oggi su questo argomento, da sempre considerato non negoziabile, per bocca del Papa in persona, che ne ha parlato all'udienza generale. Dobbiamo accompagnare alla morte, ma non provocare la morte o aiutare qualsiasi forma di suicidio, ha detto Francesco. Ricordo che va sempre privilegiato il diritto alla cura e alla cura per tutti, affinché i più deboli, anziani e malati in particolare, non siano mai scartati. Parole che hanno fatto subito parlare caffato di ennesima e tempestiva ingerenza della Chiesa. Per quanto comprensive le parole del Papa di un passaggio sull'accanimento terapeutico, non possiamo evitare la morte e proprio per questo, ha detto il Pontefice, dopo aver fatto tutto quanto è umanamente possibile per curare la persona malata, risulta immorale l'accanimento terapeutico. Libera Chiesa in libero Stato, poi però il diritto di agire e di legiferare laicamente. Dopo di noi, a otto e mezzo, gli ospiti di Lilligruber sono Alessandro De Angelis, Alessandro Giulie, Rosi Braidotti e Massimo Cacciari. Poi a Atlantide, Andrea Purgatori ci porta al cospetto dei 70 anni di regno di Elisabetta. Ci fermiamo. Solo un breve aggiornamento sulla scossa di terremoto è stata del 4.0 di magnitudo e c'è stata in Emilia questa scossa subito sopra Reggio Emilia all'epicentro a Bagnolo in Piano che si trova direttamente a nord del capoluogo di Reggio Emilia. Vediamo subito la borsa. Milano ha chiuso molto bene, più 2,72%, l'ultimo indice Fuzzimib in questo momento più 0,94% nel Dow Jones, più 1,84% nel Nasdaq a New York. È tutto Gruber Purgatori. Ci vediamo domani sera. Buonasera.